Si è disputata lo scorso 2 settembre a Perugia, nel quartiere di Ferro di Cavallo, la Coppa Umbra 2023 di subutio tradizionale organizzata dal delegato regionale Cesare Santanicchia. A vincere è stato proprio il campione italiano in carica, Santanicchia, che gioca nella squadra di Reggio Emilia. Il perugino si è posto per 2-1 su Pierluigi Signoretti di San Mignato, dopo una vincente finale vinta in parità 1-1 che si è risolta ai piazzati. Il terzo posto se lo ha giudicato Stefano Flamini dell'Ascoli, battendo 5-1 per Otti della Lazio. Quinto posto per Mirei, che ha superato Zolfanelli per 5-0.